Grazie Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per poter salvare il completo da Fefe in pratica da capo che però dovrete averlo voi anche perchè è l'unico che ha il giubbotto super pesante quello multitasca e quindi dovrete averlo voi qualche giorno fa vi ho portato diciamo il metodo per salvare i completi da guardia in questo video invece andremo a vedere come salvare i completi del CEO quelli che noi indossiamo allora per prima cosa abbiamo bisogno di un amico che ci da una mano il nostro amico deve diventare CEO e anche noi dobbiamo diventare CEO ovviamente come vedete quindi a questo punto che cosa succede? che il nostro amico diventa CEO e una volta che è diventato CEO deve andare in Assumi Associati e deve mandarci l'invito a noi che siamo CEO cioè quindi dovrà invitare i rivali fate bene attenzione ragazzi quindi come vedete tra poco mi arriverà l'invito e faremo questa cosa quindi mi raccomando ricordatevi bene voi nel CEO il vostro amico nel CEO e dovrà invitare i rivali come avete appena visto mi è arrivato l'invito quindi una volta che voi siete CEO il vostro amico è CEO e vi ha invitato nel suo CEO l'unica cosa che dovete fare è scegliere il vestito che volete quindi scarerlate rapidamente nei completi del CEO fino a trovare il vestito con il giubbotto super pesante che sarebbe quello con maglione rosso jeans, cappellino e giubbotto super pesante per poterlo trasferire su altri completi ovviamente perché vi ho portato anche sul canale il metodo per poterlo trasferire su altri completi però vedrò di portarvi anche qualcos'altro per magari passare i jogger o altre cose su completi diversi comunque questo qui è il completo di cui sto parlando a questo punto ragazzi andate vicino la doccia fate comparire la freccettina in alto a destra tirate fuori il telefono andate sull'invito del vostro amico accettate l'invito vi mettete su questa schermata sul telefono schiacciate X e subito dopo freccia a destra a me qui ragazzi mi ha sbattuto fuori però delle volte se siete nel CEO del vostro amico magari vi fa fare la doccia direttamente a me mi ha sbattuto fuori perché ero nel mio CEO però se accade questo non succede nulla come vedete io sono diventato associato della mia ragazza ovviamente e il completo mi è rimasto adesso io mi dimetto dall'associato come vedete mi da hai abbandonato e il completo è pronto ragazzi noi potremo utilizzare questo completo a nostro piacimento ovviamente non potremo togliere il maglione almeno se vogliamo lasciare solamente questo completo però potremo togliere pantaloni potremo togliere il cappello insomma tutto quello che non ci interessa e modificare solamente la parte inferiore mettere i guanti e mettere qualcos'altro quindi a questo punto ragazzi l'ultimo passaggio che dovete fare per poter salvare questo completo e poterlo utilizzare per altri scopi come vi ho fatto vedere nel video è andare in un negozio di abbigliamento io qui mi devo fregare una macchina perché sennò è un macello e una volta che sarete andati nel vostro nel vostro nel negozio di abbigliamento non nel vostro negozio di abbigliamento preferito ando cazzo le pare a voi potete andare quando sarete andati nel negozio di abbigliamento l'unica cosa che dovrete fare è salvare ragazzi il glitch è semplicissimo come vi ripeto l'unica cosa che dovete fare è avvicinarvi in doccia e schiacciare il tasto X per accettare l'invito è contemporaneamente freccia come ho detto se siete nel vostro cielo accettate l'invito del vostro amico ad unirvi al suo cielo ovviamente vi butterà fuori però come avete potuto vedere il glitch funziona ugualmente se non vi funziona invece vi mettete nel cielo del vostro amico vi fate invitare voi ovviamente dovete fare tutto il procedimento che avete visto inizio a video e rimarrete nella doccia se non funziona come funziona da me ragazzi tanto comunque dovrebbe funzionare non è quello il problema non ho veramente nient'altro da aggiungere vi faccio vedere la data e l'ora perché tanto qualcuno sicuramente mi dirà è pacciato cazzate e minchiate varie però insomma sapete benissimo che non porto glitch pacciati quindi vi faccio anche vedere qui vabbè io ho un botto dei completi comunque ragazzi c'è un metodo per trasferire i jogger per esempio quelli viola quelli arancioni quelli neri o quelli grigi come state vedendo su altri completi però quello lo andremo a trattare in seguito porterò un altro video un po' più dettagliato quindi andiamo a vedere la data e l'ora ragazzi è detto questo ragazzi veramente vi lascio un saluto approfittate di questo glitch per salvare questo completo e al prossimo video ciao